Su Sky la magica è ancora più matica. La Champions è come il red carpet per l'attore. Guardarla senza HD è come andarci in giamattica. Come vedo quest'anno la Juve in Champions? Anche su Sky Go. Il calcio è cambiato. E allora perché noi tifosi dovremmo continuare a viverlo come prima? La prossima UEFA Champions League come merita di essere vissuta. 128 partite live in esclusiva, tutte in HD. Solo su Sky. Grazie a tutti.